Ormai ho concluso con l'amore, perché io sai che faccio i film, ormai i film miei sono su 3-4 argomenti, anche perché ho fatto 3-4 film, quindi non potevano essere di più. Quindi il quinto sarà sicuramente nuovo. Esauriti i 5 argomenti messi insieme, ora lo faccio ognuno con un solo argomento. Quindi farò uno sulla religione, uno sulla rabbia, uno sul potere, uno sull'amore, ormai me l'ha già giocato, non c'è qualcosa di più. E fra i 5 film spero poi che fa solo l'attore che mi chiamano e dicono, insomma, vediamo un po' e usarlo in altre storie.